Conclusa a Caselle in Pittari l'ottava edizione del concorso nazionale di poesia a tema libero a Bele Parente ed organizzato dall'Associazione Culturale Valorizziamo Caselle con il patrocino del Comune. Lo scorso 14 agosto nel locale della Casa Canonica a Caselle in Pittari si è tenuta la serata conclusiva. 12 le poesie finaliste declamate durante la manifestazione da Maria Loguercio, Anna Rita e Torre ed Antonio Pisano. 4 hanno raggiunto il podio al terzo posto con un ex equo Non ho sonno stasera di Luigi Abbro e Cilento di Antonio Pisano. Secondo posto alla poesia La vita di Rocca e Torre. Primo posto per la lirica Sapri di Antonio Damiano di Latina. Le poesie sono state volutate in maniera anonima dalla commissione composta dai professori Mario Senatore e Felice Fusco, dall'insegnante Brune Esposito, dalle professoresse Romina Ragone e Rita Giordano, dal sacerdote Don Marco Nardozza, dal presidente dell'Associazione Valorizziamo Caselle e dal sindaco di Caselle in Pittari, Maurizio Tancredi. L'evento è stato allietato in maniera magistrale da intermezzi musicali eseguiti dal gruppo Brass Quintet dell'Associazione Giuseppe Verdi di Caselle in Pittari, a presentare la serata la giornalista Olga Marotta e la conduttrice televisiva Marianna Falese.